Musica Sono stati dieci anni di sostenibilità naturalmente abbinati allo sviluppo per quanto riguarda Era che di investimenti ne ha fatti tanti sul territorio e ovviamente questi investimenti hanno prodotto benefici per tutto l'indotto. Si è fatto il bilancio ovviamente per quanto riguarda un'azienda multi utility che ovviamente è in competizione con le arte, partecipa alle gare ma soprattutto vuole stare sul territorio, vuole tenere il rapporto con i cittadini, vuole dare servizi di grande qualità ma si vuole anche innovare, guarda al futuro, guarda sempre alla qualità e ovviamente cerca di tenere sotto controllo le tariffe. Allora Presidente per quanto riguarda l'acqua dopo il referendum innanzitutto è venuta meno la remunerazione delle quote investite per gli investimenti, come se l'è cavata era? Ma direi sostanzialmente bene perché ormai le tariffe sono definite a livello nazionale dall'autorità nazionale per l'energia elettrica e il gas sulla base di criteri molto puntuali e molto precisi. Di fatto le tariffe sono rimaste sostanzialmente stabili in alcuni territori con un leggerissimo aumento perché pur essendo stata eliminata la remunerazione sul capitale investito fino a un anno fa non ci venivano riconosciuti al 100% tutti i costi del servizio. Adesso che c'è un'autorità nazionale che applica in maniera abbastanza rigida e puntuale delle regole ci vengono riconosciuti tutti i costi e questo ha fatto sì che le tariffe siano rimaste sostanzialmente stabili. Che è molto importante perché questo ci consente di dire che possiamo continuare nella politica di investimenti nell'idrico che abbiamo fatto in questi ultimi anni e che ha portato il nostro territorio ad essere il primo territorio nazionale per minor perdite di rete e per numero di cittadini allacciati agli impianti di depurazione e di fognatura. Allora veniamo alla notizia clamorosa, non so come l'avete presa voi, però insomma il Consiglio Comunale di Forlì ha deciso di uscire da era per quanto riguarda la raccolta dei rifiuti, gestirà questo servizio improprio. Come l'avete presa voi? Intanto il Consiglio Comunale di Forlì ha adottato una delibera di indirizzo perché non compete al Consiglio Comunale di Forlì decidere se è possibile separare l'ambito di Forlì da quello di Cesena ma l'organismo competente è l'agenzia regionale che si chiama Atersi che ha una procedura molto complessa e in questa procedura bisogna mettere in evidenza se da questa scomposizione dell'ambito c'è una riduzione dei costi, cosa che mi sembra abbastanza complicato da dimostrare. Quindi noi aspettiamo che questo item procedurale vada per la sua strada, riteniamo che in ogni caso la cosa più corretta da fare sarebbe quella di fare una gara indipendentemente dalla dimensione dell'ambito alla quale noi potremo partecipare e se si pensa che questa scomposizione dell'ambito porti ad una riduzione dei costi noi siamo disponibili a partecipare a questa gara anche con una base d'asta più bassa. Quindi l'affidamento non vi starebbe bene? L'affidamento di Retin House non ci sta bene assolutamente perché vorrebbe dire tagliar fuori era senza una procedura competitiva ma non è che deve stare bene a era, deve stare bene i cittadini, i cittadini devono sapere che se c'è una gara, una procedura competitiva il gestore è quello più efficiente. Se c'è un affidamento in house questa garanzia non ce l'hanno e dove andrà a finire la dinamica dei costi del servizio è molto difficile oggi stabilirlo. Poi per quanto riguarda gli inceneritori ovviamente ci sono state delle polemiche, voi vi sentite fuori da queste polemiche anche da questi indirizzi? Pensate che adesso questa fase così calda si sia conclusa? Fra l'altro avete inaugurato con successo la raccolta porta a porta. Sul tema degli inceneritori, gli inceneritori li abbiamo appena realizzati, quello di Forlì come tanti altri sui territori, li abbiamo realizzati perché è stata un'indicazione dell'autorità provinciale, cioè la provincia che nel redigere il piano dei rifiuti provinciali ha stabilito che ci fosse un impianto di incenerimento con quelle dimensioni. Noi li abbiamo realizzati, stanno funzionando a pieno regime, i rifiuti sia urbani che speciali ci sono, pensiamo che per un periodo non breve questi impianti dovranno continuare a funzionare, peraltro con tutte le garanzie per quanto riguarda la salute dei cittadini, visti che sono impianti ultramoderni che hanno emissioni che sono 10 volte inferiori ai limiti di legge. Ma il porta a porta come sta andando? Il porta a porta sta andando molto bene, devo dire che i risultati sono brillanti sia a Forlì che a Cesena, stiamo seguendo totalmente le indicazioni che ci dirivano dall'amministrazione comunale, abbiamo superato il 50% delle accolte differenziate, l'obiettivo entro il 2016 è di arrivare al 65%. Allora Fogacci, in questi dieci anni ovviamente i vostri investimenti hanno creato benessere diciamo per tutto l'indotto, ma come siete riusciti a mantenere il rapporto con il territorio, con quegli strumenti? Io credo che il rapporto con il territorio si tenga attenzialmente con due cose, primo fare bene i servizi che il territorio ci chiede, secondo essere presenti quando il territorio ha bisogno e qui mi riferisco in particolare a due cose, la prima è la presenza territoriale della nostra azienda con le sedi, con la visibilità e gli sportelli. La seconda è quella di essere comunque costantemente in contatto con le amministrazioni comunali che in un certo senso rappresentano non solo la proprietà ma anche la voce della gente che prende i servizi a noi. Poi c'è l'equilibrio diciamo abbastanza difficile, nel senso che le tariffe possono crescere per dare profitti di cui usufruiscono i comuni, d'altra parte se le tariffe crescono poi gli stessi cittadini dei comuni sono scontenti, insomma diciamo che non è facile mantenere questo equilibrio. Ma guardi le tariffe, se parliamo dei servizi regolati, si tratta di tariffe non decise dalla proprietà o dall'azienda ma decise dal regolatore. Di conseguenza la nostra capacità è solo quella di fare il servizio in modo più efficiente possibile e qualitativamente adeguato alle richieste dei territori. Il fatto che l'azienda abbia degli utili dipende sia dal fatto che facciamo più servizi con una struttura che ovviamente ha delle economie di scala dimensionali importanti, possiamo accedere a mercati di capitali che per un'azienda più piccola non sarebbero aggredibili e quindi diciamo abbiamo la possibilità di avere denaro a un prezzo inferiore e quindi possiamo fare investimenti che un'azienda più piccola non potrebbe fare e di conseguenza più i servizi che non sono regolati dove ovviamente nasce la capacità competitiva dell'azienda e quindi quell'utile che poi ai soci interessa. Va bene, per ultima cosa ovviamente qualcuno dice ma era al monopolio del mercato, non è così? era si confronta sul mercato e soprattutto partecipa alle gare? Assolutamente sì, come diceva l'amministratore delegato al 50% il nostro fatturato è fatto con attività che non sono sul mercato regolato, sull'alto 50% tutta la parte gas è in corso di gara, tutta la parte ambiente è prossima alla gara salvo quello che si diceva del comune di Forlì, sull'acqua avvieriamo la gara per la provincia di Rimini in questi mesi appena il regolatore sarà pronto quindi siamo pronti a partecipare e speriamo di vincere. Allora Tosti innanzitutto che credibilità possiamo dare a questo termine di sostenibilità abbinato allo sviluppo? E' una bella domanda perché oggi lo sviluppo sembra sempre meno sostenibile e basta, cioè è uno sviluppo che il pianeta non tiene ed effettivamente ho paura che un po' sia così perché gli uomini sono tanti, le loro esigenze sono sempre maggiori, è sempre quello e quindi però localmente forse possiamo metterci nella strada di rendere questo sviluppo meno pesante ecco forse questa è la notazione più esatta, più corretta. Ecco questa situazione per esempio dell'acqua dove le tariffe crescono perché ovviamente i comuni partecipano all'utile e i cittadini però sono scontenti, può trovare un equilibrio? Però sull'acqua veramente io mi preoccuperei poco nel senso che il vero problema qui sono le altre tariffe, quelle che usano i combustibili fossili, cioè il gas ci costa tanto perché il 40% sono tasse eccetera perché il gas in sé costa tanto, l'acqua costa un euro e mezzo ogni mille litri al rubinetto, non è una grandissima cifra se consideri che deve essere addotta e depurata. Non mi sembra che sia una cifra su cui mettersi a fare battagli ideologici, comunque se uno volesse al limite potrebbe dire che garantiamo tutti 50 litri gratis al giorno, però l'altra paghiamola di più perché se no la sprechiamo se costa troppo poco, io su questo dell'acqua sarei molto attento, su altre tariffe invece magari qualcosa si può dire ma ormai le tariffe vengono decise da un'autorità, chi acquista il gas lo paga quella cifra lì, è difficile pagarlo di meno, insomma è così vale anche per gli altri combustibili fossili. L'ultima cosa sul porta a porta, bisogna guardare ai maggiori costi economici in termini di spesa o ai minori costi ambientali? Allora il porta a porta quasi dappertutto funziona bene, nel senso che permette di impiegare più persone e una raccolta differenziata mirata, dunque funziona quasi sempre bene. E' anche vero che c'è Rimini che è la città che fa la migliore raccolta differenziata in Italia che non la fa col porta a porta, dunque diciamo che normalmente quella può essere la regola ma è che in altre occasioni ci si può declinare diversamente, l'importante è che si riduca l'uso della discarica, questa mi sembra la priorità maggiore.